Ora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, restano due chilometri di coda per incidente tra Valdarne e Arezzo e rallentamenti per traffico tra Sasso Marconi e BV1 Variante, tutto in direzione sud. Segnaliamo che è prevista neve tra Parma e BV1 Variante, ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali. Sulla Firenze Mare, code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione di Pisa. Regolare al momento il traffico in Fipilì, dove segnaliamo la presenza di personale su strada tra Firenze Scandici e la Strassigna in direzione di Livorno. Per le statali possibili rallentamenti sulla statale Trebisti Verina e 45, per mezzi spargisali in azione tra San Giustino e Canili, nei due sensi di marcia. Prima di salutarci per il traffico ferroviario a causa delle avverse condizioni meteo, i treni odierni potranno subire ritardi o cancellazioni, tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!